buongiorno sono giuseppe colangelo sono il coordinatore del corso di studi scienze del turismo all'università dell'insubrio a como volevo far giungere un caloroso benvenuto ai maturandi che stanno pensando di iscriversi da noi nel corso di scienze del turismo e che parteciperanno agli open day è un momento un po particolare per questa pandemia stiamo facendo lezioni online e continueremo a svolgere la nostra attività sul web e anche voi come studenti avete subito una forte trasformazione un cambiamento del vostro modo di essere studenti forse anche nel prossimo anno accademico dovremo continuare questa attività online e siamo pronti a farlo siamo pronti ad ospitarvi come nuovi studenti del corso di laurea in scienze del turismo all'università dell'insubria a como ma allo stesso tempo la nostra speranza è di poter riprendere quanto prima una più diretta interazione tra docenti e studenti che già sappiamo sul campo porta a dei migliori risultati di performance il corso di laurea è un corso multidisciplinare e quindi studierete materie di diverso tipo passerete dagli studi di tipo economico agli studi più aziendalistici e studierete anche materie di diritto e materie umanistiche oltre ovviamente alle lingue questo vi permetterà di diventare nel giro di tre anni dei buoni professionisti del turismo se vi impegnerete a seguire il nostro percorso accademico e in questo modo in questi tre anni che studierete la situazione sul mercato del turismo migliorerà migliorerà significativamente sapete che il turismo è uno dei settori più colpiti da questa pandemia ci aspetteranno mesi difficili ma proprio per questo il timing relativo ai vostri studi è buono perché passerete tre anni a studiare e sperabilmente diventando laureati nel giro di tre anni verrete collocati sul mercato del lavoro proprio nel momento in cui ci sarà una forte ripresa sul mercato turistico mi auguro quindi che tutto vada bene e che possiate fare un'ottima maturità e da questo punto di vista vi giunga il mio migliore in bocca al lupo